Sei una brava madre. Non lo so, con Trevor va bene. Ma con Phoebe, lei mi tiene sempre a distanza. È normale. È una ragazzina strana, un po' nerd. Spero che cambiare casa per lei sia un nuovo inizio. O si metterà nei guai prima o poi. Dalle tempo. Come ci sei finito qui a Summerville? Non abbiamo più un soldo. E mio nonno ci ha lasciato questa macabra fattoria nel mezzo del nulla. Tuo padre non era di grande aiuto in casa. Girava gli interruttori al massimo. Quindi non ci ha lasciato niente? Beh, proprio niente non direi. Hai scelto la Station Wagon? È l'unica che ha il motore. Sì! Che succede qui? Questa città non è su una linea di faglia, ma trema quotidianamente. Magari è l'apocalisse. Egon è venuto qui per un motivo. Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Oh mio Dio. Lo sentite? Arriva qualcosa. L'intera città è come The Walking Dead. Gli agchiappa fantasmi, siamo pronti a credere in voi. Siamo chiusi. Gli agchiappa, è l'unica che si fai la tua. L'unica che si fai la tua. E' bevelo nella notte? Siete? Siete?